crossover note senza confini un programma di e con paolo travagnin carissimi amici di crossover un sontuoso allegher dal vostro paolo travagnin e benvenuti nel contenitore di talenti sommersi che da voce proprio senza confini alle vostre opere per entrare a far parte del nostro circuito potete contattare via mail la nostra redazione music chiocciola vatiradio.va o comunque per inviarci il vostro materiale che noi attendiamo sempre con grande sorpresa e attenzione potete contattare anche la nostra redazione visitando il sito www.icebergnews.it per entrare a far parte proprio del progetto di crossover www.icebergnews.it 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti